Ha fatto quello che fa sempre, partire al trotto e scaricare tutta la potenza che madre natura gli ha donato nei garretti e correre, correre più veloce di un lampo col vento che gli spettina la nera criniera e mettere il muso davanti a tutti. Peccato che quella imboccata non era una veloce pista di trotto ma la superstrada 73 bis Fano-Grosseto all'altezza di Bellocchi e i cavalli contro cui correva erano quelli dei motori, delle macchine che gli andavano incontro. Protagonista di questa avventura, senza gravi conseguenze per nessuno, grazie al sangue freddo e allo sprezzo del pericolo di due agenti del commissariato di Fano, un cavallo da corsa, Sinfonia AN, uno splendido esemplare femmina di 5 anni di razza Baio Scuro che vanta ben 12 record in carriera. Domenica mattina scorsa, assieme al suo proprietario e conduttore, stava facendo una sgambata in un campo in località Il Torno, quando avviene l'imponderabile. È stato spaventato dalle fucilate, ha dato il primo colpo e non c'è mossa, il secondo colpo ha inteso avvenire il piombo e si è scatenata, è partita, mi ha scaricato e non ho visto più niente. Fortunatamente non è successo nulla, né a nessuno, né anche a l'animale. Grazie a quelli della polizia che sono stati delle genti straordinarie, in un attimo ha fermato tutto, preso la cavalla, non è successo niente, è stato un lavoro di prima scelta. Un cavallo in piena corsa con tanto di ghinghetta attaccata e contromano è una condizione di estremo pericolo non solo per l'animale ma per l'incolumità degli automobilisti vista l'elevata probabilità di collisione. Uno dei due agenti ferma la macchina e tenta in vano anche con l'aiuto di un motociclista di arrestare la corsa del cavallo finendo a terra anche due volte, ma niente di fatto. Il suo collega invece in auto, intraversando la volante sulla carreggiata, ferma il traffico e con prontezza e l'aiuto di un esperto che passava di lì in auto ha arrestato la corsa di sinfonia. Siamo riusciti a bloccare il traffico veicolare, pararci, mettere a intraversare la macchina per bloccare il traffico completamente, pararci davanti e bloccare finalmente la corsa del cavallo per l'incolumità degli automobilisti che in quel momento stavano sopraggiungendo. Il primo tentativo è andato a vuoto e anche il secondo, anzi nel primo tentativo io sono riuscito ad afferrare una briglia del cavallo, però vista la velocità mi ha strattonato, mi ha scaraventato in terra e poi da lì è cominciata la corsa dietro l'animale cercando di riuscire a fermarlo. Per fortuna siamo riusciti dopo due tentativi e soprattutto senza creare nessun problema ai veicoli che sopraggiungevano, quindi senza nessun incidente stradale è andata bene. Grande concretezza, sprezzo del pericolo perché hanno rischiato di essere messi sotto anche da veicoli che sopraggiungevano, però questo è il nostro lavoro, è veramente la nostra attività, loro l'hanno interpretata veramente al meglio, quindi grande interpretazione, grande lucidità, grande determinazione e concretezza.